Al giorno d'oggi le auto devono saper fare parecce cose. Il software Kia Connect offre innumerevoli funzionalità che il conducente può comodamente gestire tramite air. Funzioni come la ricarica intelligente, il controllo del portiere e del clima permettono di avere ovunque il pieno controllo della propria auto. Le funzionalità a bordo comprendono navigazione in tempo reale, punti di interesse, informazioni su pacchecci e stazione di ricarica e molto altro. E tutto anche con assistente vocale. Inoltre, acquistando un nuovo veicolo, Kia Connect è disponibile gratuitamente per i primi sette anni.